Ennesimo appuntamento della campagna elettorale per le elezioni europee del nuovo centrodestra a Sant'Agata Militello. Nella sala conferenze del Museo de Nebrodi sono intervenuti ieri due dei candidati nella lista dell'NCD UDC per il voto del 25 maggio. L'europarlamentare uscente Giovanni Lavia ed il deputato regionale Nino Germanà. I due candidati, affiancati dal senatore Bruno Mancuso e dal deputato nazionale Enzo Garofalo, hanno ribadito la proposta politica del partito del leader Angelino Alfano nell'ottica di un'Europa a misura di cittadino che sia meno distante dalle esigenze della popolazione e sia capace di dare risposte concrete alle grandi necessità della cittadinanza. Abbiamo bisogno di applicare in pieno la nuova politica agricola comune per avere aiuti a tutto il sistema imprenditoriale e una migliore politica di sviluppo rurale. Abbiamo bisogno di nuovi strumenti di intervento per la politica dell'immigrazione. Perché così com'è è troppo penalizzante per il nostro paese. Abbiamo bisogno di una nuova missione Frontex nel Mediterraneo perché non può essere solo l'Italia a farsi carico del controllo delle frontiere. Abbiamo bisogno di un nuovo progetto politico e di rilanciare il progetto politico per l'Europa. Messina deve ritornare a essere protagonista nei tavoli che contano, nei tavoli regionali, nei tavoli nazionali e Messina deve anche avere la possibilità di andare in Europa a battere i pugni. Con grande soddisfazione, credo che anche la sala piena di questa sera ha un significato importante che siamo riusciti a trasmettere al meglio il nostro messaggio. Il messaggio di un partito territoriale, di un nuovo centrodestra, di un partito neonato che ha soltanto 5 mesi e riesce a dare fiducia alle persone. Grazie a tutti.